Parlare di confusione è riduttivo. Sotto il cielo del PD avellinese regna il caos più totale. Tanto che da Roma, da Napoli o da Avellino, quando mancano tre giorni all'apertura dei seggi, potrebbe arrivare lo stop alle primarie. La cronaca convulsa e frenetica delle ultime ore racconta di ritiri, reintegri e mezzi passi indietro. Torna in campo Leonida Gabrielli, riammesso dal tribunale di Avellino, l'avvocato potrà partecipare alle primarie perché i giudici hanno stabilito che la regola sull'incompatibilità decisa dalla coalizione non è applicabile. Dunque nessun conflitto di interessi con il fratello Amedeo che guida l'Avellino Città Servizi. Non lo prevede il codice etico, nello statuto, nemmeno la legge. Soddisfatto, Gabrielli ora chiede la testa di Caterina Lengua e parla del PD come di un manicomio. Avvocato, il tribunale le ha dato ragione, si riapre la partita, lei è di nuovo in campo per le primarie? Certo, mi aspetto che non ci sia un altro provvedimento di esclusione, ma non potrebbe essere, perché è un ordine cogente del giudice, chi lo via, lo viola, corre un serio rischio. Dovrebbe essere così, a meno che arrivi, l'unico fatto sarebbe quello di non tenere le primarie, ma non credo che accadrà. Ci faremmo queste primarie tranquillamente, tra buoni amici, chi avrà più consenso vincerà e rappresenterà il partito alle elezioni amministrative. E se io dovessi perdere sarò ben felice di dare una mano a chi vince. Che cosa resta di questa vicenda? L'amarezza di una soluzione che poteva essere diversa se fosse stato chiesto un mio ritiro in maniera diversa. L'amarezza perché alla fine poi, le assicuro, partecipare a una competizione con un provvedimento di natura giurisdizionale non fa tanto piacere. Però ci conforta il fatto che è stato affermato un principio di diritto e una regola di diritto. E allora superiamo anche questo e andiamo tranquillamente avanti. Contestuale al ritorno di Gabrielli c'è il mezzo ritiro di Nando Romano, candidatosi proprio in sostituzione dell'avvocato e sempre in rappresentanza del circolo di laboratorio democratico. Romano, per il definitivo passo indietro, chiede infatti le dimissioni di Amedeo Gabrielli dalla CS. Qualche sorpresa in questo senso, si limita a dire Leonida, potrebbe arrivare nelle prossime ore. Chi invece ha dato un sicuro addio alla competizione è l'ex assessore guido d'avanzo, un contributo, dice, a rasserenare il clima ed evitare la frammentazione. Nel frattempo si registra la convergenza dei renziani dell'onorevole Famiglietti su Paolo Foti, certificata da un video postato su YouTube in perfetto stile 5 stelle.